Ciao ragazzi, io sono Stefano Noardi, struttore di Muay Thai tradizionale e Krabi Krabong. Oggi voglio parlare di un'altra tecnica fondamentale della Muay Thai tradizionale, ossia della Memai Muay Thai, che è la ginocchiata circolare. Anche questa tecnica la troviamo in altre arti marziali, ma nel Muay Thai tradizionale ha delle caratteristiche particolari che la rende una tecnica devastante. Innanzitutto dobbiamo ricordarci di spingere il colpo sempre in profondità, quasi a voler tranciare completamente il bersaglio. Per far questo il collo del piede del ginocchio che andrà a colpire deve essere disteso, quindi muscoli tibiali contratti, e il piede d'appoggio deve alzarsi sulla punta, quindi il tallone alzato da terra, e girare quasi a 180 gradi. Avremo così una spinta dell'anca a dare proprio forza al colpo. Poi sappiamo che nella Muay Thai tradizionale tutto il corpo è un bersaglio, quindi la ginocchiata circolare potrà colpire le gambe, il fianco, lo sterno, la testa, e può essere anche saltata, dando quindi più potenza al colpo. Non vi resta quindi che allenarla. Se avete domande potete consultare il mio sito www.stefananoardi.it e scrivermi sulla mia mail. Ciao e buon allenamento! Grazie a tutti!